Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo tutorial sullo stile di artemide. Questa volta faremo una nail art molto particolare con l'utilizzo di un foglio di carta stagnola o alluminio. Abbiamo bisogno di uno smalto, io ho utilizzato questo della Revlon che è blu, di un altro smalto con i glitter, questo è dorato, e poi di una base trasparente e di un buon top coat. Se volete sapere come ho fatto seguite il tutorial, ci vediamo dopo! Grazie a tutti! 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 Se vi è piaciuto il tutorial, lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere di cosa ne pensate, mettete un mi piace ed iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao e grazie per la voglia! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!